Iniziamo a farla partendo anche da Genova. Veronica, vedo che sei arrivata su una splendida terrazza. Sì, Lorenzo, esattamente, sono in una splendida terrazza di proprietà della signora Gianna, che vedi qui con me. La signora Gianna pensa a settembre compirà 99 anni, vero? Certo, certo. Ed è qua con questo cappello, così si protegge. Sì, mi protegge un po' dal sole, ma poi se c'è il sole lo prendiamo. Se non ci fosse sarebbe molto meglio. Comunque, siamo qua. Ma lei come si protegge dal caldo eccessivo? Mi bagno un po' i polsi, un po' le tempie e avanti, vado avanti e indietro un pochettino, sì. Va bene, ci sia il sole che non ci sia. Certo, se non ci fosse sarebbe meglio, ma da che c'è? Andiamo avanti. Lei si protegge comunque. Certo, e come, cara? Allora, Lorenzo, la signora è seguita. Eh, prego. Non mi sembra di avere 98 anni, davvero. Mi sembra sempre di essere, non so, di avere molto meno. Perché ho memoria, ho tutto, grazie a Dio. Ma infatti non si direbbe. Non si direbbe. Sono felice, lo stesso, così. La signora poi viene seguita, però... Sì, non si direbbe, Lorenzo. Esatto, sì, viene seguita dagli operatori del Sant'Egidio. C'è qui Emine, che è l'operatrice del Sant'Egidio, che la segue. E che... cosa fate per lei? Buongiorno, io sono una volontaria appunto di Viva gli Anziani. Gianna la chiamiamo spesso, soprattutto in questo periodo che fa molto caldo, dove noi diciamo appunto agli anziani di stare in casa. Cerchiamo anche di tenerle compagnia. Poi insieme abbiamo festeggiato anche Ferragosto. Sentiamo la signora. Che bello, guardi. Ho passato dei giorni, dei giorni da sogno. Proprio da sogno. Cos'Egidio, poi sono buono, mi mandano i viveri. Non mi lasciano, sì, sì, sì. Non mi hanno mai... Da quando l'ho conosciuto non mi hanno mai, mai, mai abbandonato. Allora dietro, Daniela mi viene sempre a prendere con la macchina, anche lei, perché purtroppo proprio un po' cammino e poi mi stanco. È la gamba che mi fa male. Sì, signora. Non mi dovevano neanche operare, sa? Mi hanno operato perché avevo 94 anni, eh? Non tocco noi fare una persona. Poi mi hanno visto così. È piena di risorse questa signora. Sì, piena di energia. Allora, io vorrei tornare qua in studio.